Il rischio di un fallimento economico per l'Inter è tutt'altro che lontano. Giang sta pensando a mosse folli pur di mantenere la proprietà della squadra nerazzurra. Ma le scelte di Giang saranno positive o avranno risvolti negativi per l'Inter. Guardate tutto il video per capire gli scenari che si prospettano. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Il destino dell'Inter è sospeso in una partita finanziaria ad alto rischio, dove la famiglia Giang, proprietaria del club nerazzurro, si trova di fronte a una spesa folle per mantenere il controllo. La scadenza cruciale è fissata a maggio 2024, quando il fondo statunitense OCTRI richiederà il rimborso del prestito da 250 milioni di euro, con un tasso di interesse del 25%. I colloqui tra la proprietà dell'Inter e OCTRI hanno raggiunto un punto morto, a causa dei tassi di interesse prebitivi, spingendo la famiglia Giang a cercare alternative. attraverso Goldman Sachs stanno esplorando il terreno con altri fondi statunitensi, come Sixth Street e Ares Management, per una linea di credito che estingua il debito entro la fatidica data. Il tempo è ora un nemico e entro fine gennaio si spera di arrivare a una soluzione. La cessione dell'Inter è un'opzione, ma la situazione debitoria complica le trattative. Con debiti totali di 807 milioni di euro, la richiesta di incasso della famiglia Giang sembra fuori mercato. Su questo debito così elevato, vogliamo sapere il tuo pensiero. Ritieni che l'Inter rischi di fallire a causa dei debiti generati da Giang? Scrivilo nei commenti sotto al video. La strada scelta al momento è il rifinanziamento, ma ogni mossa potrebbe portare a una situazione analoga con un nuovo creditore. Il futuro dell'Inter è legato a un filo sottile e la partecipazione al nuovo mondiale per club del 2025, i proventi della Champions League e il progetto del nuovo stadio sono carte che potrebbero influenzare una possibile trattativa per la cessione. Mentre la famiglia Giang considera le opzioni, l'Inter e i suoi tifosi trattengono il respiro, consapevoli che questa partita finanziaria potrebbe cambiare la storia del club. La pressione cresce e l'orologio continua a segnare il passare del tempo. Si avvicina il momento in cui la famiglia Giang dovrà prendere una decisione cruciale, mantenere il controllo dell'Inter o affrontare un futuro incerto con nuovi attori sullo scenario calcistico. Ciao e alla prossima notizia!